Ora bisogna trovare la soluzione per attivare la seconda torre. Vediamo un po' che fa. Arrampicarsi, andare lì, sopra, io penso che sia a tempo, ma non ho altro, non ho molte sabbie. Quindi andiamo di first try oppure siamo morti. Ok, niente sabbie. Addio! No, non mi freghi. Ok. Se ti muovi ti ringrazio, però va bene. Merda! Sicuramente qui posso recuperare sabbie. Intanto mi ha liberato una morte per il bozzetto. Una morte per il bozzetto. Una porca. Ripro... Ok. No, ho bisogno... Ok. Sabbie. Ok. Non gli possiamo fare nulla, quindi... Oh! Cos'è sto singhiozzo? Cos'è sto singhiozzo? Roccatraia! Non mi muovo più... Ma ecco. Ehm... Sto vedendo dove devo andare, eh. Odio la telecamera di questo gioco. Ok. Ora, vediamo un po'. Oh, ce l'ha fatta. Andiamo di là. E finalmente... Non ci romperà più le scatole quel gigante... Per ora. Io voglio sapere chi ha costruito ste robe, veramente. Fatemi un gioco dove c'è stato questo tizio che ha costruito questo castello. Muratore Simulator. Prince of Persia Edition. Ok. Adesso... Devo vedere dove... Dove arrampicarmi. Forse devo scendere. Però se scendo io non so... Non si sposta nulla! Che fastidio! Ok. Devo scendere. Sotto ci sono le asticelle. Oh! Oh! Santidio! Adesso... Spostarsi... Ok. Ole! Se vado su? No. Eh? Allora... Ok. C'è il gigante. Il gigante dovrebbe rompere i coglioni. Ok. 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 Credo lo stesso mestiere di prima. Magari non facciamoci beccare. Ok. Ok. In questo modo dovrei saltare indietro, ma... Non riesco a capire. Ok. Non di qui. Di là. Andata. Una bella girata. Oh. Ecco. Salta per aria. Salta per aria di là. No, eh. Io devo salire, eh. Sono condannato. Cosa succede? Ce l'ho fatta, non so come. Tre. Forse ne manca una. Corriamo. No, eh. No, eh. C'è un... Un... Un passaggio. Un bozzetto qui. Cioè non gli ho fatto nulla Lui non so dove è sparito Vabbè Prendiamo la scala Pian piano Perché se no si si crepa No ok Ok Ora Ora Eh vabbè la telecamera qui Può accompagnare solo Adesso faccio un video dove mi lamento e basta della telecamera di questo gioco perché Eh Bozzetto Sono contro di lui Finalmente lo faccio fuori Oh Che fastidio Allora lui era là Io da lì ci sono arrivato Qualcosa mi dice che mi devo rampicare qua No Ah ecco Qui mi devo alzare Destra sinistra sinistra No Quindi si corre E non mi fa correre Questo problema di fondo Boh Sembrava all'estremità la scala Eh vabbè Ho perso sapie No No Ma porca miseria Eeeh vabbè Dai ole ce l'ho fatta Temo che non mi rimanga molto tempo E mentre io cerco di attivare le torri L'imperatrice starà creando le sabbie Peccato che non ci sia audio Ma effettivamente anche i tempi Non mi ricordavo dell'audio Di queste scene